Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella ventisettesima puntata della serie Belga, oggi siamo qui con... Allora ragazzi, stiamo per andare a vendere quindi bisogna che... dobbiamo vendere in quattro a tempo in poche parole Quindi... servono ancora due trattori in farm e i carri sono già a cuore Eh le faccio 3G e stacco in gambo da qualche cosa Ma no, se vuoi puoi staccarla anche nel campo Vedi tu Allora noi carichiamo l'orzo che è in verde come vedete E abbiamo fatto un conto che facciamo 85.000 litri con il carro mio e di Samu Poi con questo andiamo a 90... 103 E... 103 dobbiamo arrivare a 145 Quindi 103 ci servono ancora 42.000 litri Che li porta a questo, non leggiamo questo E siamo a posto Ma stanno in farm oppure... Sta tutto in farm sta E c'è da portarlo al... bio chat Eh? Ti vogliono senti un microfono fa... ooo... anche tu? Io? Ma il microfono è di chi? Hai sentito anche tu? Non so, è qualcuno, posso bollare con i miei garrote ma... No, io non ho sentito, tu Simone hai sentito? Eh? Io no Cosa vuol dire? Ah, è stata con bell'acqua, non è che posso parlare Ah, è che ne so, eh, fai come al solito che almeno ti molli tutto Ah, bella manovra Stavo a pensare a zippettà Mi ricordo che quella volta stavo facendo l'erba Simo arriva Mi ricordo quante migliaia di bestemmine dice Mi sono versato tutta l'acqua addosso Mi sono versato addosso mezzo litro d'acqua Mi ero andata a tridere e me l'hai comprato? No, non ho leggendo Me l'ho fatto il bagno Eh, Simo, se l'ho fatto il bagno Eh, e il carro ci ha comprato invece? Nessuno, perché prima ci servono tutte e tre Tutte e quattro, poi vediamo l'class Che effettivamente sarebbe... Tende, dove si lo passa? Eh, soprambore... Dove più le tracce? Sopra... so... chiapa sinistra lì Sopra... io sotto Sopra... studeo... si chiama un zandepa No... urtapolo... c'è un problema Scegli di di malcomadonne Quasi ci vende solo in due alla volta al massimo Purtroppo... Te l'ero ditto che compravi qui l'auto Ma io mi chiamo Danny, io riesco a fare di tutto e di più Sopra... Sopra... schifo che fai di più o indeni? Eh, eh, ecco Ci stanno ancora di setemila litri, me so Eh, li deve caricare ancora Raffa, eh Che carro prendo E' class E' class l'unico che è rimasto Do' è SN? Al... qua, dove siamo io Siamo, vedi un altro in basso Vigine la biogassa Sì In alto in basso Dovremmo fare un pochettino di soldi Poi ragazzi c'è anche la soglia La colza, scusate In... Prezzo Sì, ma dove si può, ecco Vai su, vai su, vai su Poi giri a destra A posto Guarda qua, le dandorchi Ciò che ti metti più o meno come mi sono messo io Vigine, bello gambo Quale è questa? Gusta poco 26, sì ma un po' lontano, eh La messa bene avanti, lo vado a prendere con il carro Ma che andrà fatta bene a moriristica nel 13 Aspetta il 17 Dai, gira tutto di là, gira tutto di là Eh, no, cucina, vabbè No, 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 non mi piglio coso Ciò che ti mette a contrario di come sono messo io per cos'è Perché così poi apro il portellone e succede un casino E basta, embennate Cusci io, cucina, piglia Eh, ma, ma è Proviamo Ho paura che apro il portellone e succede un casino poi Eh Mi metto più in lato io Cusci in me Mi piglia Bene, perfetto Fermo così Andiamo a vedere dove sono gli altri due No Cima No, lo sono gestato No, ok, gli ha faccio bene in foglia Guarda come se è benna Raffa che prende le allungatoie in tutti i sensi In tutti Per fare qualunque Per fare qualunque Dove ne fai scarcare quella lì Da parte opposta Ah, da parte opposta Sinceramente mi sembra che è che Savo fa Oh, Savo, ma dove Mi sono sbagliato Eh, dai Il timone è proprio nel buco Ho capito che devo venerti aiutare, sa Ma si attacca Spero che se è benna davanti Non c'è, non c'è Non c'è Eh, sì, come c'è Non 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 c'è Mi aderla metti testo La ruota pensi che gli va bene E per te le ruote sono fatte per non avere peso Eh Non c'è Non c'è Che cazzo Fessi E se cimetti l'acqua pro Oh dai, dove c'è Senti, vedi, fai fagliare Senta, ma são, ma porca di un'amera Ma forca, ma potrei fare una cosa fatta decente Cimetti l'acqua Ma ho capito, ma non puoi andare a tirare Non posso del genere Solo da me Perché anche per te quando si è fatto un altro danno e' ancora guarda che sembra in realtà di andare su dritto eh ma ora sembra vai prima tu che sennò poi ti tocca frenare ma in quattro non ce l'ha fatta lo pensavo c'è che vadella dalla parte possa di dove siamo noi ma come parte, ecco la partita ah ma si è fermato no, si sta fermando prima si è fermato guarda in gordo c'è ma che gli tacchi come potrei ha senso c'era solo quella eccolo la mia curva ma perché dolori eh vi dovete mettere in due li fate conto che dovete starci quindi già che belle che sono elettro marce che c'è simone che ho letta si può andare in due la best terra fa così se la farei a regolare te la prende a tecino si non mi piglia più lungo ok nemmeno aspettate eh datemi una regolata che si muoveva ed è pure che sia un sportellore mi scansa via anch'io va bene cosissimo si 3 2 1 va bene soldi proprio stiamo facendo che si contano con niente ok io sono vuoto ho una grande porta che mi sembrava eh eh no vale da me abbiamo fatto tipo 200 mila euro no scusate voglio dire siamo arrivati un milione di euro da un problema se ti vedo tarrangi tanto il carro è noleggiato adesso lo vediamo indietro cala cala come calo eh cala un po ti dico cala tu vuoi calare come calo da cosa è che vuoi calare come calo c'è stato un po' e c'è un traste tutt'altra volta la mia o io l'ho detto si ma si non vale c'è un trattore che fa i 200 all'ora di fa le scende dalle stalle ore de carmen de carmen de carmen timo camelo no ma 46 messaggi ma che c'è ma perchè hai ripristinato il trattore perchè sarà caputato ma pensavo per fare prima ecco la bomba basta che stai a tutto simo e vai finire giù bene mamma mia mamma mia io l'ho fatto po no ecco il laro diciamo che vuole cercare di attaccare un muretto al trattore ce la fare altre vendite eh qualcun altro mi serve oh eh vengo io eh vengo io vengo io stavolta dobbiamo caricare la colza se vuoi ci sarò io con questo carro faccio il sollecito il sollecito fai il sollecito allora colta eh ci facciamo curva larga poi lo sollecito va fatto su un po' sto si si sa senso un po' se vuoi la tonda gli gusta dove viene da bo sul naso eh sbucci scambi ma scappa scappa la coda ma e che c'è l'uogno del terno merito come quelle di quella no un attimo che mi fa che cosa ok ci sono eccoci tornati qua tutti assieme ma stavamo dicendo dobbiamo portare questo alla beve lei potrebbe anche toglierci lo fa tanto ma si dice a rere o a beve oh me carli porca puttana se carli porca puttana un attimo un attimo raffa tu non ci corri qua ah no? no no ce ne avanza ma c'è sta da finire la mette che cazzo vendiamo? eh infatti la prepariamo poi la vendiamo dopo allora devo andare io sotto la trebbia col carro e dov'è la trebbia? al campo eh grazie ma sta ecco sta ma cosa c'è in mezzo al 19 scusate 19 è il carrellino me sa? si ma si è andato a metterlo prima ma anche me fammi scarcarla da beve un attimo aspettate cosa? fammi rimbilo carro ah c'è da treggi no 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 vallarete 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 ma io sta cosa aspetta 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 io canno ora si ora no ora si ora no ora si ora 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 non ci arriva ora ti sentimo che bestemmi non ci arriva no si si io canno tanto io sono pieno un mio mezzo dove l'ho lasciato boh ma se sei andato a mettermi si ma non sai com'è non ti rispondo te l'ho detto 500 volte che di non metterla durante le puntate tu la metti uguale cosa ti devo dire allora ehm adesso anche qua l'avevo è peggio ancora per scaricarci in tre cos'è rimasto da trebiare solo quello simo? si bene mi fa piacere ecco un po' meno sta pianta fammi vini io comprerai un volvo eh Samu che faz vengono belle e grosse l'andano meglio 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 questo senso finora l'ho usato solo da fare trasporti mi sento realizzato vero Samu che poi io non so nella realtà quanta convenienza possa avere avere il rimorchio per il trattore con sopra l'impianto scarrabile e il cassone con dentro la roba cioè secondo me ti porta via tipo il 99% di portata beh magari siamo tipo già camion no? scarrabile magari giusto da girarci in campo perché andare su strada non penso abbia molto senso perché sai quanto pesa tutto sta fare come? no sai che lo fa sì ma ti porta via tanta portata devo averci nessun riscarabili all'inizio del campo e' appunto la trebbia la rimpia e' un valentino alzare la tirasù e' la va a scaricare il consorzio io quello ho detto o fai così o se no portarlo in giro per fare trasporti non ha senso fanno quando c'era una ditta che fa le strade così che c'ha i i carri quelli non ho capito quello che ha detto da me c'è una ditta che fa le strade i ponti anche le strutture che non so tipo un edificio grande come supermercati così e hanno un camion vabbè ma il camion non conto eh sia il camion sia rimorchi però i rimorchi hanno sia quello che attaccano il trattore no e allora che discorso è si il camion si il camion si che è eh cos'è qual'è il punto della situazione parlavo del trattore finito ah io pensavo del camion del camion qua abbiamo il trattore allora eh questo anche il camion avremo siamo un guarda 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 cosa sto per comprare guarda mi cambi compra tutti i cambi da là potremmo comprare te ricordi sì qua nel 34 ancora ancora si può fare come fa c'è un server nemmeno a mezzo secondo ho comprato una moto di game che voglio no ah sei contento stiamo così no beh ti arrabbi io parlo in mandarino no all'arangio lo farei mandari marie marie io parlo io parlo voglio cercare l'inversore e mettere il freno a mano sul camion dammi la bomba allora questo è adesso a posto ragazzi grazie per la visione da den primo ciao a me è tutto ciao a tutti ciao a tutti